Guarda quanto è alta la montagna russa d'acqua È enorme, è immensa Fatelo far ridere vista da lontano, è davvero fantastica Ci siamo, siamo arrivati C'è pure la luna piena per questo momento Questo momento terribile Vediamo, oh mio Dio E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Steph, e che stai giocando a Roblox E finalmente ragazzi, siamo tornati nel nostro parco giochi Vi abbiamo fatto aspettare un po' molto, vero? Sì, ha ragione, ha ragione Abbiamo esagerato Fatto aspettare abbastanza, avete ragione a chiederlo così tanto Quindi perdonateci, ma siamo tornati qui Questo episodio, lo volevo dire subito Lo dedicheremo alla creazione di una bellissima montagna russa per adulti Perché, come ti ricordo, abbiamo fatto quelle per bambini Esatto Questa volta faremo quelle giganti per adulti Oh mio Dio Sarà qualcosa di davvero difficile Sarà difficile, ma bello Sai che ci hanno anche detto Ma perché non fate quella di Mirabelandia? Perché non quella di Gardner? Ma secondo me sarà davvero difficile riuscire a fare qualcosa di decente Con tutti i giri della morte Sarà complicatissimo Ma ci proveremo Esatto, infatti noi ci proviamo Non ci tiriamo indietro prima di iniziare Però ragazzi, ci mettiamo a rendere un po' più carino tutto Perché sinceramente, allora, la parte acquatica Sono davvero soddisfatto Vi è piaciuto un sacco nei commenti Ci avete fatto un sacco di complimenti Noi siamo davvero felicissimi di questa zona È troppo carina Però secondo me il resto del parco Non è più paragonabile Che cosa? Vieni Hai visto che qua c'è una collina strana Almeno è più bellina Perché prima la barca Cioè la nave che dondola Rimaneva sospesa quasi sul vuoto Invece con questo è molto più carino C'è anche una galleria Bellino Mi piace Bellino come l'hanno migliorato Bravi, bravi Bell'aggiornamento Promosso 10 più Eh, almeno non sembra diciamo Un'isola sospesa nel vuoto Ma così dà più il senso di parco chiuso Ok, dopo aver visto questo Che non abbiamo notato Appena siamo entrati Aspetta, aspetta, aspetta Vieni qua No, ti devo dire una cosa importantissima Vieni qua, vieni qua Aspetta, aspetta Che c'è? Dobbiamo farci il bagno Vieni qui a fianco a me Eccolo Bellissimo, bellissimo Ci ha preso in pieno Allora, è pieno di sporcizia Quindi io mi sto arrabbiando No, è la zona più carina del parco Non posso non spocarla Allora, c'è un problema Sì Mi devi dare di nuovo i permessi per costruire Scusi, un attimo Si sono tolti probabilmente con l'aggiornamento Mi stavo già spaventando Ho detto, perché non posso fare nulla Quello sta succedendo qui Stavo andando a vedere appunto per riaggiungerti E ho notato, ok Che oltre a poter aumentare il prezzo delle singole giostre Puoi aumentare il prezzo per entrare nel parco Addirittura, quanto è adesso? Adesso è a 20 Quindi ogni cliente per entrare da noi Pagamenti Ma io direi di iniziare a mettere 25 25 25 25 è più o meno il prezzo di qualsiasi parco giochi Quindi anche di più forse costano, lo sai? Per ora noi teniamo 25 Comunque 25 è giornata, non è poco Quindi per ora teniamo così Allora, venga Venga, andiamo Dove stiamo andando? Boh, facciamo qualcosa Allora Mi vorrei dire qualcosa tu tanto tempo fa Dimmi Sì, sto cercando di Scusa, mi è uscito un po' troppo acuto È perché è per l'emozione Ok Allora Prima di iniziare con la montagna russa Dobbiamo sistemare diverse cose Prima di tutto i cestini da questa parte Perché stanno facendo un disastro Aggiungeli, vai È il tuo lavoro Poi facciamo che tu sistemi tutta questa zona Perché non mi piace questa piattaforma così dritta in legno Cioè puoi fare qualcosa di un po' più carino Magari mettere anche qualche chioschetto O qualcosa del genere E io mi occupo di mettere qualche miglioria estetica qui e là Ok? Ok, allora Prima di tutto però voglio controllare Ok Come pensavo hanno aggiunto una cosa Un negozietto dove si compra da mangiare Uh, bello Hot drinks Quindi le bevande calde Le bevande calde Esatto Molto interessante Poi credo che No, qua non hanno aggiunto nulla Ok, mi ero un attimino Ti stavi illudendo da solo Hanno aggiunto Credo una Una tomba La lapida della tomba Poi hanno aggiunto un tavolino bellissimo Però che mi dice To the moon Forse un tappet elastico Oh, che bello Non ci posso credere Dobbiamo provarlo C'è troppa roba C'è troppa roba nuova Dobbiamo assolutamente provarlo Che cos'è questa cosa? Che cos'è? Con cosa stai impazzendo? Allora Io sto mettendo Vieni nella zona dei pirati Aspetta, devo mettere un po' di cestini Perché questo è un compito importante Che nessuno ha voglia di fare Esatto Comunque ci sono nella zona dei pirati Sto mettendo i cestini qua Mi vedi? Ok Sì, ti vedo Guarda Ok Allora, i cestini penso bastino Non ne metto altri Cosa c'è? Le vedi le palle del cannone? Dove? Oh mio Dio! Aspetta Tipo qui giù Qui giù un bel pozzo Per chi si comporta male nelle giostre Viene buttato lì dentro Abbiamo due tipi di pozzo Mettiamo questo, guarda Perché questa pure è la parte col secchiello La vedi? Oh che carino Poi ad esempio c'è anche questa Perché poi così valuti se vuoi usarla Ahà È un vagone Bellino però Un bel po' di oggetti bloccati Che dobbiamo sbloccare assolutamente Perché rosico troppo La porta esiste? Controlla Dovrebbe esistere Avrebbe senso in effetti Oppure lasciala Lascia aperto Capito? Uno libero Ok Ok Ho due liberi Adesso non so come Così Così ci passano in mezzo E va bene Se non c'è la porta Molto molto più bellino Va bene uguale Allora uso questo per riprendermelo Ok Vedi secondo me è così No vedi qua non me lo fa mettere Mi ha fatto mettere solo questo Non so perché l'altro no Vabbè Ci sta bene così scusami Lo vuoi lasciare così? Sì Lascialo così per quello che vuoi Adesso mi stai confondendo Mi stai facendo arrabbiare Vuoi litigare? Sì voglio litigare Vieni qua Ti prendo a schiaffi Affrontami Guarda come giro più veloce di te Ti prendo a schiaffi Cosa vuoi fare? Allora guarda che poi Flippiamo il gioco Ok Allora invece questa parte Come possiamo collegare le due zone? Allora Perché non è semplice Senti la mia offerta Ok Ok Offerta proprio Sì una offerta di lavoro Oh che carino Prendendo i rifiuti Grazie Qua c'è l'entrata Cioè è entrata Se l'esce uscita Comunque entri e esci Esatto Dalla parte acquatica Perché non sfruttare Questa parte Per andare dritti E qua fare appunto La super nuova Attrazione Sì ma anch'io pensavo Di farla qui dietro Però vedi che questo Sentiero qua È bruttissimo Però ad esempio Si potrebbe togliere Questa giostra Che qua secondo me Ci sta male E fare dritto E fare dritto E mettere un po' di cose carine Capito alberelli Ok Prova a toglierla Prova a toglierla Allora la devo prima di tutto Chiudere Ok Tanto poi le riposizioniamo Capito Certo certo Secondo me sia Senza un sentierino qua Magari con tutti i chioschetti Tutte cose che si unisce Direttamente a questo E questo Ho tolto tutto Secondo me Ho tolto tutto Perché è davvero terribile Il percorso così Guarda è davvero terribile Inizio Allora Facciamo così Inizio a toglierlo Così almeno abbiamo una visione Più ampia della zona E poi decidiamo come farlo Ok Mi piace Non abbiamo resistito Se mi resti un'ora A fare migliorie Però mi sembra molto più carino Allora abbiamo messo il recintino in vetro Che ci sta davvero bene Poi si entra Come vedete abbiamo allargato il tutto Perché secondo me è importante Che sia capito Un po' tutto più largo Perché comunque devi pensare A una persona che entra E si guarda intorno Per decidere dove andare Fare di sentire stretti stretti Non piaceva neanche a me In effetti Non mi piaceva Abbiamo il gioco delle tazze Poi qui abbiamo messo Due negozietti Con in mezzo Un pochettino di cose estetiche carine Questo nuovo gioco Che ancora ne avevamo provato a mettere Che sembra davvero fantastico E abbiamo arredato tutto Un pochettino intorno Vorrò sistemare anche questa zona Dove si mangia Dove ci sono tutte le cose E così via Però Per ora dobbiamo pensare all'altro Perché l'obiettivo di oggi Era un altro Ci siamo fatti noi Prendere la mano A migliorare esteticamente Esatto Quindi direi Di iniziare subito A fare le montagne russe Che è la cosa più importante di oggi Esatto E poi lasciamo le migliorie Magari al prossimo episodio Il prossimo episodio Secondo me rendiamo Un tutt'uno Capito? Esatto Abbiamo anche altre giostre da mettere Ok? Che probabilmente Le metteremo O in questa zona Non so adesso se mi vedi Ok Vedi che questa zona è un po' vuota Ok Quindi o si metteranno le altre giostre O comunque si dovrà riempire con altro Lo stesso per questa parte qui Ma io direi di fare Prima le montagne russe Vedere come escono quello E poi unire il tutto Sono d'accordo con te Mi sembra un buon piano Io qua mi sono limitata a fare Un sentiero dritto Perché sinceramente Non so ancora Ok Come collegheremo Tutte le parti del parco Ma per ora sono soddisfatta Moltissimo dell'ingresso Ma le montagne le compro qua? Questo spazio? Allora sto pensando Io non lo so Posso farle lì di fronte Le montagne russe dei bambini Secondo me è figo che ci dà il parco acquattico E c'è una strada che collega Capito? A quest'altra parte Quale scegliamo? Perché abbiamo una scelta di quattro montagne russe Allora il junior no Abbiamo il No quelle grandi Sì ma abbiamo wild Still E inverted Oh mamma mia A me le inverted Ma scusa mi stai mettendo in difficoltà Allora fammole vedere Fammole vedere Mi ispirano le inverted Devo essere sincero Andiamo proprio di montagne russe estrema? Sì Ok Tanto guarda abbiamo tanti tipi possiamo fare Allora non sono sicura però di iniziarle lì Lo sai Mi sembra un po' attaccato Eh ma infatti mi sono spostato parecchio eh Dici? Eh sì Altrimenti poi non hai modo di fare curve Di fare cose Vai vai Aiuto Allora Sì Ci sono Non sarà semplice Lo so Non sarà per niente semplice Allora station io ti direi da quattro o da cinque blocchi? Cinque Cinque Sì mi piace di più Ok togliamo la station E andiamo di blocco normale Aiuto Partiamo un po' dritti e poi si sale? Eh sì dai All'inizio Questa può fare le salite ripide Finalmente 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 Allora Ma questa come parti? Praticamente tipo così capito? Con quello seduto in piedi così e poi ti giri tutto no? Sì ma Non lo so guarda Che montagne russe è? Non sto capendo Sì forse una di quelle Allora Mi raccomando questa volta devi fare tantissimi giri della morte Io te lo dico voglio tantissimi giri della morte Non so come si fa Allora devi andare Allora ascoltami Sì Guardami Ok Devi andare così e poi giri Oh scusa sto buttando giù tutto e poi No dall'altra parte non fa Non ce la fa Fare un giro Che facendo? È troppo difficile Guarda che carini che siamo Siamo davvero carinissimi Vediamo Aiuto Io qua sarei già venuto Anch'io sì Avrei fatto tutto il resto svenuta Assolutamente sì Vediamo come sarà Ok Però stiamo solo salendo Quindi è abbastanza Sì guardati in basso però No non guardo Grazie No preferisco Continua a guardare in alto Guarda Guarda quanto stiamo in alto Ora piano piano saliamo Mentre curviamo Guarda Bellissimo però Ci siamo Ci siamo Siamo arrivati C'è pure la luna piena Per questo momento Questo momento terribile Vediamo Oh mio dio Oh 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 Aiuto Che cosa terribile Aiuto Giustamente ho preso velocità Fighissimo Bello 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 Mi è piaciuto molto Allora vediamo Adesso c'è la seconda parte Ok dovrebbe essere un po' di discesa Poi Rirallenta un po' Poi un po' di nuovo di ridiscesa Perché ti confonde Vedi Non capisco bene Discesa non discesa Carina Carina Non male Scappo Voglio scendere Non c'ho più voglia di far Aiutami Scappo Salta via Mi sono lanciata Dalla montagna Ressa in corsa Perché non avevo voglia di rifarla Guarda che bellina Che carina È troppo carina Adesso devo sistemarlo esteticamente Allora Fatti basta Vai aspetta Fammi vedere le fence Vai Ti do il permesso di aiutarmi con le fence Vediamo Perché sono scarso solo per quello Altrimenti me la facevo da sola Dai Secondo me questo è carinissimo Sì è carina dai È andata abbastanza bene la piscinetta Basta bassa Mi piace Mi piace Sì 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 Sono indecisa se cambiare Dall'erba A un altro materiale Intorno Alla piscina Perché ad esempio Potremmo mettere il quarzo Sì in effetti In effetti non è Guarda Non è una cattiva idea No Ci sta malissimo No quello ci sta male Magari qualche altra cosa No perché non lo puoi mettere sopra gli alberi Quindi lasciamo perdere Ah ok È affittante bellino così È bellino così Mi piace Perfetto dai Allora no Io sono abbastanza soddisfatto Cioè secondo me abbiamo migliorato un sacco La parte dalla quale si entra C'è tanta roba da fare Guarda quanto è alta La montagna russa d'acqua È enorme È immensa Fa troppo ridere Vista dall'ottano Davvero fantastica Te l'ho detto Io la zona dove si mangia La vorrei modificare Però magari ce la lasciamo Per il prossimo episodio Perché vorrei fare qualcosa Proprio di particolare Io sai cosa vorrei fare Per il prossimo episodio Dimmi se ti piace come idea Ok Allora ho notato Tra le cose che puoi costruire Che puoi arrivare Abbiamo dei muri e dei tetti Quindi sicuramente puoi arrivare A costruire Un intero edificio Esattamente come ti pare piace Quindi vorrei fare un ristorante Un ristorante Sì 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 Proprio un edificio Un bel edificio Capito In cui dentro ci saranno Appunto Tutto il cibo Tutte le cose I tavolini Un ristorante chiuso Insomma Che ne dici Interessante Mi piace Mi piace come idea Così proviamo ancora Qualcos'altro di diverso Sì non abbiamo ancora visto In effetti Quella parte della costruzione Perché ripeto Diversi edifici li puoi fare Totalmente come ti pare piace Quindi perché non provare A fare anche un piccolo ristorante Tanto tutti gli altri chioschi Sono all'aperto Ci starebbe farne uno bello chiuso Magari grande Tutte queste cose Ci potremmo provare Esatto Sto guardando Guarda dall'alto Sì Guarda il mio schermo Che bello Perché ho messo proprio L'inquadratura perfetta Allora Il parco acquattico Rimane ancora la parte più bella Però adesso Lì in fondo Abbiamo davvero Una montagna russa Folle Che ci sta benissimo La parte di sinistra La stiamo modificando In modo davvero interessante C'è ancora un bel po' di roba Da fare Sono indeciso Ad esempio Se lasciare questa montagna russa Per bambini Posizionata così O se modificare un pochettino Però vediamo anche quello Nel prossimo episodio Ok Dobbiamo ragionare un po' Diciamo Su tutta la formula Del parco Per renderlo sempre Più bello Esatto Beh ragazzi Il video è così Se ci è stato Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi Di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao